Quanto costa acquistare e mantenere la Maserati Levante GTS? Beh, lo scopriamo insieme in questo video. Quanto costa acquistare e mantenere questo mostro da 530 cavalli? Beh, una domanda che in questi giorni mi avete fatto in tanti attraverso i vari social e alla quale cercherò di dare una risposta in questo video nei limiti del possibile perché, come vi sto per raccontare, alcuni dati sono un po' difficili da raccogliere e elaborare. Ci troviamo in Italia e quindi chiaramente la prima voce di spesa non può che essere il bollo auto. Quanto paga di bollo questa Maserati? Allora, sotto il cofano abbiamo il V8 3.800 da 530 cavalli, 730 N per metro di coppia disponibili già a 2.500 giri. Quindi praticamente, fatta eccezione per la versione trofeo, la GTS è la Maserati Levante più potente disponibile oggi in listino. Per calcolare il bollo auto di solito cosa faccio? Prendo la targa dell'auto in prova, la inserisco nel sito dell'agenzia delle entrate, inserisco la regione nella quale la vettura è stata immatricolata e poi ottengo il costo del bollo. Purtroppo però in questo caso non mi è stato possibile perché, come avrete notato, questa vettura non risulta immatricolata. Cioè stiamo parlando di un prototipo, di un esemplare di pre-serie, quindi non è immatricolato. Per capire quanto va a pagare di bollo questo 3.800 da 530 cavalli, allora cosa ho fatto? Ho preso i 390 kilowatt nominali di questa vettura e sono andato a vedere come materialmente viene calcolato il bollo auto. In particolare vi devo dire che si va a pagare 2,58 euro per ciascuno dei primi 100 kilowatt, successivamente invece si pagano 3,78 euro per tutti i kilowatt eccedenti i primi 100. Quindi a conti fatti Maserati Levante GTS paga il suo bollicino da circa 1.400 euro. Ma non è finita perché quest'auto qua purtroppo paga anche il superbollo e quindi stiamo parlando di 4.100 euro di superbollo. Direte voi è finita? No, purtroppo non è finita perché ovviamente lo zampino del fisco, lo vedremo anche più avanti, interviene anche sul prezzo finale della vettura. A questo punto di solito vi parlo del costo dell'assicurazione. Purtroppo però per lo stesso motivo per il quale non vi ho potuto raccontare il bollo così come calcolato attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate non posso essere preciso per quanto riguarda i costi di assicurazione. Come calcolo di solito i costi delle assicurazioni delle auto in prova? Beh, inserisco i dati della vettura che sto provando, quindi la targa e una serie di altre informazioni standard, quindi se la vettura è o meno l'unica del nucleo familiare, quanti chilometri intendo per correre, ecco tutte queste informazioni le inserisco in uno dei più famosi comparatori online e cosa ottengo? Una panoramica dei costi assicurativi. In questo caso purtroppo non l'ho potuto fare perché non essendo la vettura targata risulta impossibile accedere a questo tipo di informazioni. Tema sicuramente interessante è il costo di acquisto di questa vettura qua. Quanto dobbiamo spendere per mettere in garage la cattivissima Levante GTS che ho provato? Beh, abbastanza perché parliamo di circa 139.600 euro come prezzo d'ingresso per la GTS con il suo vuoto da 530 cavalli, poi ovviamente ci sono tutti i vari accessori che possiamo andare a portare a bordo. Devo però purtroppo dire che questa vettura paga anche l'ecotassa, supera infatti il tetto di 250 grammi di CO2 per chilometro e quindi accede al grado più alto dell'ecotassa, 2500 euro in sede d'acquisto. Però per esperienza e anche per quello che ci hanno segnalato gli ultimi dati, devo dire che i clienti che si interessano al segmento premium non si stanno facendo più di tanto scoraggiare dal fatto che ci sia oggi da pagare anche l'ecotassa e quindi chi voleva una vettura come questa o comunque una vettura prestazionale, oggi comunque in Italia continua a sceglierla nonostante purtroppo il gravoso intervento dell'ecotassa, nonostante ecco questa vettura comunque sia omologata Euro 6. Vi voglio parlare quindi del listino, come si articola il listino di Maserati Levante GTS. Eccomi allora a farvi vedere il configuratore di casa Maserati. Seleziono qui la nostra Levante e cosa trovo? Trovo quindi tutta quella che è l'articolazione della gamma Levante. Allora si parte ovviamente dall'entry level, la V6 diesel da 77.200 euro, poi ci sono le V6 a benzina, quindi quella da 82.300 euro con 350 cavalli, la versione invece al listino 96.500 da 430 cavalli, la Levante S, però andando più giù cosa troviamo? Questa cattivissima Levante GTS, V8, 3.800 da 530 cavalli, trazione integrale, prezzo di listino 139.600, più giù troviamo poi la Levante Trofeo che è una versione diciamo derivata, uno sviluppo di questa GTS e arriva addirittura a 580 cavalli, prezzo di listino 160.100 euro. Vado a selezionare la Levante GTS, vi dicevo il prezzo di listino è 139.600 euro, sulla vettura in prova sono stati aggiunti degli accessori che hanno portato il prezzo a circa 149.000 euro, però vi voglio dire che molti di questi accessori sono effettivamente utili e fanno veramente la differenza, quindi li vediamo insieme. Comincio subito dal colore, questo è il blu emozione, secondo me una tonalità cromatica che sta benissimo sulla Levante GTS. Poi sono stati montati i cerchi nella versione da 20 pollici con questa finitura però nera che stacca molto bene con la pinza freno rossa, questo monoblocco in alluminio Brembo a 6 pistoncini all'anteriore che è veramente tanta roba. Possiamo poi scegliere anche il colore della pinza freno, questa GTS ha la pinza di colore rosso, però volendo vedete possiamo avere blu, giallo, addirittura possiamo avere il grigio metallizzato e poi il discorso degli interni è che a me questo colore della pelle piace veramente tanto, stacca molto bene anche sulla plancia e quindi abbiamo sostanzialmente, eccolo qua, la possibilità di selezionare anche il colore delle modanature, oltre che vedete possiamo scegliere prima ancora se avere la cucitura a vista e di che colore. Ragazzi veramente veramente grande attenzione al dettaglio. Oltre alle personalizzazioni su questa Levante GTS sono stati aggiunti ulteriori accessori, ad esempio il cielo rivestito in alcantara, vedete addirittura i montanti sono rivestiti in alcantara, abbiamo l'impianto audio Bowers Wilkins da 1280 watt, più o meno 1000 euro, però ragazzi vi restituisce un sound, un audio pazzesco che vi farà sentire al centro di una sala concerti. Certo sotto alcuni punti di vista è quasi un peccato attutire il suono melodioso del vuoto, però se vogliamo sentire della buona musica ovviamente un impianto audio è di un certo tipo, torna sempre utile. Fra gli accessori abbiamo anche l'home link, cioè la possibilità di gestire direttamente dall'auto i comandi che riguardano ad esempio il cancello di casa, il garage, potremo quindi utilizzare direttamente la vettura per accedere a queste funzioni senza dover portare dietro chiavi, telecomandi, telecomandini, tutto sarà effettivamente a portata di mano. Ci sono poi ulteriori accessori, ad esempio la possibilità di riscaldare i sedili posteriori, costa circa 1000 euro, volendo si può avere anche il climatizzatore quadrizona, cioè non solo i passeggeri anteriori ma anche quelli posteriori possono ciascuno individualmente scegliere la propria temperatura ideale e fra gli accessori c'è anche quello che secondo me è veramente un pacchetto molto interessante, circa 3500 euro ma ci portiamo a casa tanti tantissimi ADAS. Il driver assistance package porta infatti in auto tantissimi dispositivi molto molto utili, quindi abbiamo i sensori per quanto riguarda l'angolo cieco, in prossimità degli specchietti esterni c'è proprio un led che ci segnala della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale e ci evita pericolose collisioni. Abbiamo poi il radar anteriore, ovviamente la frenata automatica, la telecamera a 360 gradi che è veramente molto utile per gestire questa vettura ad esempio in città. Parliamo infatti di un'auto che è lunga 5 metri, larga 2 metri, ragazzi una vera e propria bestia e quindi in certe situazioni effettivamente la visibilità non è ottimale se non altro per la lunghezza veramente importante del cofano e per la presenza comunque di due montanti posteriori particolarmente generosi. La lista degli accessori poi ovviamente prosegue, parliamo ad esempio del tetto apribile, parliamo ad esempio dei vari portapacchi o comunque accessori dedicati Maserati che vi consiglio di andare a controllare sul configuratore perché sono veramente veramente belli e forse vale la pena ecco sceglierli per rendere questa vettura ancora più esclusiva di quanto già non sia però nel configuratore Maserati ho scoperto un'altra cosa bellissima noi possiamo senza sovrapprezzo andare a ritirare la nostra vettura direttamente in fabbrica quindi la ritiriamo in fabbrica facciamo un factory tour dedicato e possiamo addirittura essere i primi a guidare la vettura materialmente ci viene data la possibilità di farlo sul circuito di Modena quindi veramente un'esperienza molto immersiva quella che Maserati vuole offrire ai suoi clienti. Tra i costi di gestione non posso che citare anche i consumi in realtà è un po' un peccato nel senso che chi sceglie questa macchina la porta a casa per le emozioni per la grande sportività e cattiveria che sa esprimere nonostante a guardarla da fuori la si direbbe un sub questa in realtà è una sportiva vera una sportiva vera anche per quanto riguarda i consumi perché con quasi due tonnellate o poco più di peso parliamo più che altro nella migliore delle ipotesi di circa 18 19 litri di benzina per 100 chilometri quindi traducendo questo dato significa fare poco più di 5 chilometri con un litro quindi oggettivamente il vuoto fa sentire il suo sound all'interno dell'auto incanta per prestazioni e emoziona però chiaramente ha anche una sua dispendiosità specifica ovviamente se volete sentir cantare questo motore e parlare di prestazioni non posso che rimandarvi al video dedicato che trovate qui sul canale la prova su strada di questa levante gts nella quale insomma vi descrivo tutto quello che ruota attorno alla meccanica di quest'auto alla trazione integrale alle tante tecnologie che gli ingegneri Maserati hanno saputo mettere appunto per rendere gestibile tutta questa potenza perché oggettivamente non ci vuole nulla o quasi a mettere tanti cavalli in un'auto però una cosa molto importante è rendere quella potenza effettivamente fruibile e questo i Maserati sono riusciti a farlo veramente bene quindi vi rimando a tutti i focus dedicati alla meccanica di questa vettura che trovate qui sul canale questo era l'approfondimento dedicato ai costi di gestione e di acquisto di Maserati Levante gts adesso però come sempre voglio sentire la vostra scrivetemi tutto qua sotto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti prima di salutarci però l'invito è quello solito andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it e vari facebook twitter e instagram non dimenticate di seguire il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori ma soprattutto iscrivetevi a questo canale perché ci troviamo sempre qui per il prossimo video ciao